eccomi lì amici al centro della piazza che guardo la cura di pippo cella chi sono io io sono un appassionato che ama qualunque mezza motore che vada forte che dia il piacere di guida auto moto non ha importanza certo le moto mi fanno paura quindi le guardo e basta ma sono molto appassionato per il resto io amo le auto da sempre non sono nato in una famiglia appassionata la passione mi è venuta così da sola spontanea non saprei neanche dire come mi è venuta e basta ho circa mille ore in pista da amatoriale con le auto e non so quante ore passate ai go kart durante le 24 ore eccetera eccetera quindi non sono proprio l'ultimo non sono nessuno ma non sono l'ultimo da qualche anno ho deciso di portarvi la mia passione tramite youtube portandovi i contenuti dei miei video ed eccomi qua ho molti amici che mi seguono e mi sospendono e senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile alcuni di loro li potete vedere oggi in questa piazza altri di loro oggi non ci sono ma sono tanti iscriviti anche tu al nostro canale sostienici nei prossimi passi così da potervi sempre portare nuovi contenuti e crescere se non vuoi dai iscriviti non costa niente ciao ciao ragazzi ciao a tutti eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi e anche oggi con questa giornata l'ho fatto prima il video ma lo rifaccio in qua come ogni anno è ricorrente fare il video di Pasqua è arrivato un Renault Sport non è ricograz infinity dicapan quality eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi no Ecco cari amici, vi ho fatto un po' di presentazione, vi ho messo un po' di pillole di molti anni, ci sono pezzi molto antichi della mia storia e niente, con questo video volevo farvi questa presentazione leggera e niente, per dirvi un po' chi sono io. E molti si chiederanno perché non mi tolgo la maschera, beh come ho già detto all'inizio mi toglierò questa maschera quando arriverò a mille iscritti, mi toglierò la maschera, fino a quel momento lì dovrete aspettare, prima vi iscrivete e prima mi tolgo la maschera, magari non ve ne frega niente, però è così che fanno le cose. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, ce ne saranno tanti altri in seguito, pian piano li faremo tutti, se siete arrivati fino a questo punto qui avrete un po' visto di me. Con questo ragazzi chiudo e vi saluto al prossimo video, ciao a tutti!